Facciamo una curva piegando leggermente le ginocchia e spingiamo dolcemente in avanti le braccia insieme alle molle. Poi stendiamo le gambe e spingiamo leggermente verso il basso per estendere il torace. Decidete voi quanta pressione esercitare contro i single loop incrociati dietro alle spalle per avere più o meno assistenza. Ripetiamolo ancora un paio di volte. L'aria va fuori e arrotoliamo. Allunghiamo anche rilassando le spalle e poi tiriamo ed estendiamo e lo ripetiamo un'ultima volta. Quindi una flessione attivando bene l'addome e poi una estensione. E adesso scegliamo una posizione intermedia tra questi due e iniziamo piegamenti sulle gambe. È interessante questo lavoro in quanto avendo molto peso distribuito sulla parte posteriore riusciamo ad avere praticamente la schiena perpendicolare al pavimento e quindi le ginocchia restano quasi sulla linea delle caviglie. Teniamo quindi sempre attivo il centro proprio per questa spinta che possiamo dare posteriormente al nostro schienale. L'aria dentro, l'aria fuori per stendere possiamo anche provare a scendere molto più giù ovviamente perché c'è una salita un po' più assistita garantita da questa resistenza.